In vista del prossimo turno di campionato Capistrello-Teramo in programma domenica 10 dicembre ore 14.30 presso il campo comunale di Capistrello, confermata la location, la società del Teramo ha comunicato che non ci sarà la prevendita dei biglietti che invece potranno essere prelevati direttamente domenica presso l'impianto Marsicano e saranno complessivamente 150 quelli a disposizione dei sostenitori biancorossi. Il costo è intero 10 euro, ridotto 5, under 10 ingresso omaggio. Il Diavolo nel frattempo sta continuando la preparazione in vista di una trasferta da non sottovalutare. Il Capistrello è a quota 16 punti in classifica, il quintultimo posto in zona play-out. In casa raccolto tre vittorie, un pareggio e tre sconfitte e i gol segnati tra le mura amiche sono 14, quelle subite 29, terz'ultimo peggior attacco e difesa. Il tecnico Pomante per domenica potrà contare sul recupero dell'attaccante Mercado, mentre Oses, che circa un mese fa ha subito la frattura del malleolo della gamba destra, ha iniziato a svolgere lavoro differenziato, ma sarà ancora fuori per almeno altri 20 giorni. Il Capistrello sarà assente per squalifica all'under 2003 terzino sinistro Lorenzo Di Marco. E' soddisfatto l'attaccante Tourette, che ha firmato 11 reti tra campionato e Coppa Italia. Lo ascoltiamo. Hai realizzato il primo gol al Bonolis, finora avevi sempre segnato in trasferta, una gioia particolare? Sì, è stata una gioia immenza comunque segnare il mio primo gol allo stadio dopo tanto e spero di farne molti altri in futuro. Quindi, scusami, allora anche l'arrivo di Santi Rocco crea più competizione nel reparto offensivo, non è il tuo stesso ruolo, però magari Pomante potrebbe decidere di giocare magari con un modulo diverso. Insomma, l'arrivo di Santi Rocco come è stato accolto da voi attaccanti? È stato accolto molto bene, comunque c'è molta competitività davanti, competizione comunque bisogna dare sempre il massimo, sempre, poi le scelte poi le farà il mister. Sul mercato si attende ancora l'ufficialità del terzino sinistro Nicola Vanzan, che si sta allenando da un paio di giorni con il Teramo, in attesa di trovare l'accordo economico con la società e che si definiscano i passaggi formali del trasferimento dalla Cireale al Teramo.